Ciao, sono Valentina, la musifavolista, questo è Letture Viandanti. Stiamo leggendo e credo che siamo all'ultimo capitolo di La Dama Verde di Alfredo Pitta. Leggiamo da una stanza domestica, ambiente assolutamente non trattato, con un road podcaster che io non amo ma questo c'è e questo usiamo. Come sempre ti ricordo che Letture Viandanti è una rubrica di letture all'impronta, quindi ci fanno compagnia errori, imprecisioni, rumori di fondo, inciampi nella lettura e tutto quello che può succedere durante una lettura indiretta. Detto ciò, andiamo avanti e finiamo questo libro, forse. Dunque, buon ascolto. Capitolo quindicesimo. Una deposizione. All'entrare del testimone, il giudice istruttore Liboni si alzò a mezzo per porgergli la mano, atto di così insolita degnazione in lui che il cancelliere perve meravigliato. Andrea Villanterio strinse la mano che gli veniva stesa e si mise a sedere dietro invito dello stesso giudice, il quale cominciò con la debita solennità. Signor Zanazis o signor Villanterio, se preferisce. Dica pure Villanterio, signor giudice, interruppe Andrea. Non per rinnegare il nome di mio padre, ma troppo chiasso si è fatto e purtroppo altro se ne farà ancora e già ho iniziato pratiche per chiamarmi ufficialmente Villanterio. Così si chiamava mia madre. Benissimo. Mi dispiace però che nel verbale bisognerà mettere ancora Zanazis sa le precise disposizioni procedurali. Ma ciò che volevo dirle principalmente era questo, che sono veramente lieto di conoscere personalmente l'uomo che con rara intelligenza e con non minore abilità ha saputo far luce in questo mistero così aggrovigliato. La ringrazio molto, signor giudice, ma una gran parte del merito, se merito c'è, va al cavaliere Morinelli e è al caso. Non voglio contraddirla, sorrise Liboni, ma mantengo ciò che ho detto. L'ho fatta chiamare perché faccia la sua deposizione e se preferisce può accennare come è riuscito a far luce nel delitto. Questa deposizione sarà la pietra basilare dell'istruttoria e il giudice tossì pomposamente. Ai suoi ordini, rispose quietamente Andrea. Se prima però volesse permettermi una domanda, dica, dica pure. Ha preso qualche decisione nei riguardi della signora Saliotta. Da dodici giorni è in prigione, povera donna. Credo che molto dipenderà dalla deposizione che lei farà ora. La partecipazione materiale della signora al delitto non è evidente e quindi se lei mi fornerà altri elementi favorevoli potrò proscioglierla o per lo meno metterla in libertà provvisoria, se questo sarà il caso. Benissimo. E sarà giustizia, creda pure, signor giudice. Poi, dopo le solite formalità, l'investigatore riprese a parlare lentamente per dare al cancelliere il tempo di seguirlo. E raccontò come fosse stato avvertito da Morinelli della disgrazia avvenuta e che cosa avesse saputo dallo stesso vicecommissario prima del modo misterioso in cui si erano svolti gli avvenimenti e dell'intervento in un certo senso benefico della Dama Verde, cioè della signora Berandis Saliotta, poi delle deposizioni dei quattro sospettati. Accennò alla sua gita a Venezia, alle informazioni ottenute, alla scoperta quasi casuale del meccanismo aggiunto all'orologio, al colloquio di Luisa Bioni con Storinelli, del quale aveva udito appena qualche frase, sufficiente però a sconvolgerlo, e soggiunse noti che da Gaddini, il quale era veramente una vittima seppure non senza colpa, avevo saputo della parentela della moglie con Maria Arsinelli, poi signora Berandis, poi ancora signora Saliotta, o meglio, Gaddini mi accennò a un nuovo matrimonio della cognata, ma non mi seppe dire altro del secondo marito. Tenni per me queste notizie e altre che lo stesso Gaddini mi fornì e che avrebbero potuto essermi utili, pensando che al momento opportuno me ne sarei servito. E convinto che l'uomo il quale mi aveva dato un calcio al viso quella sera alla Sagser fosse Storinelli, di lui mi occupai pressoché esclusivamente. Ero quasi certo, sebbene di solito non creda all'efficacia di simili truccature, che egli si mettesse in alcune circostanze una barba posticcia, che avesse veramente la barba tempo prima e poi se la fosse fatta radere dovetti escluderlo perché Gaddini mi disse che da quando conosceva Storinelli lo aveva sempre visto senza barba. Nella sera in cui sorpresi il colloquio di Storinelli con la signora Bioni, scusi un momento signor Villanterio, interruppe il giudice. Lei mi diceva poc'anzi che quel colloquio l'aveva sconvolto. Posso domandarle perché? Credeva forse alla possibilità di una fondata accusa contro il signor Bioni che lei conosceva da anni, mi ha detto? Neppure per sogno, protestò calorosamente l'investigatore. Sapevo e so ora meglio che mai quanto il signor Bioni sia incapace di fare del male. Veda in questi giorni in cui grazie all'aiuto di un finanziatore di Roma ha potuto fare un esperimento della sua nuova invenzione e Andrea non mentiva. Erede del padre, non aveva stentato troppo a trovare le 50.000 lire promesse a Bioni. L'ho letto sui giornali, pare che gli si prospetti una grande possibilità di ricchezza, bravo! E Liboni pareva soddisfatto. Appunto, eppure, dicevo, in questi giorni egli rimane tuttavia l'uomo ingenuo e disinteressato che ho sempre conosciuto. Si contenta di essere riuscito ed è lieto di guadagnare denaro soltanto per la figlia. La povera signorina si sarebbe seriamente ammalata se avesse continuata quella vita di lavoro e di stenti. Ora invece sta già molto meglio. Dunque scusi, perché quella sua emozione nell'udire il colloquio di storinelli con la signorina? Insiste il giudice con una punta di maliziosa curiosità. Tra parentesi, scusate perché stasera sono stanchissima quindi mi sto mangiando tutte le consonanti. Glielo dirò a suo tempo, se permette, per la logica concatenazione degli avvenimenti, replicò non senza gravità villanterio. In quella sera, dunque, ebbe il sospetto che storinelli volesse tendere un tranello alla signora Luisa, che, avevo saputo, egli perseguitava con odiose premure, e credetti opportuno chiederne l'arresto al cavaliere Morinelli, il quale, d'altra parte, era più che propenso a prendere un simile provvedimento. Quando gli agenti erano appostati in via a San Michele, uscì il saliotta. Giunsi dopo, e alla descrizione fatta me ne credetti fosse proprio lo storinelli. Al suo ritorno, il saliotta fu arrestato. Condotto in ufficio dimostrò la sua identità, e il cavaliere Morinelli, convinto di aver commesso un errore di persona, si affrettò a rilasciarlo. Che errore vi fosse stato, credevo anch'io. Tuttavia, per sgravio di coscienza, volli telefonare alla pensione Carmeli. La cameriera chiamò la signora, alla quale dissi che ero un amico venuto da Napoli, che doveva conferire urgentemente col marito. Ella mi rispose che il marito non era rientrato. Me l'immaginavo questo, e non ci voleva molto. E qui Andrea sorrise. Ma ciò che mi colpì fu l'accento francese della signora. Come in un lampo mi ricordai di ciò che avevo saputo a Lido, e cioè che la dama verde, o signora Berandis, aveva un accento davvero francese. Sa, associazione di idee, null'altro. Allora mi provai a dire che dovevo parlare al signor saliotta dell'affare Zanasis. Dato che i giornali nulla avevano pubblicato del delitto, quel nome sarebbe stato per la signora come un altro qualsiasi, se... se saliotta fosse stato innocente. Invece la signora mandò un lieve grido e tolse la comunicazione. Chiarissimo. Era in colpa. Osservò gravemente il giudice. Vede? E Villanterio non sorrise. Corsi a raggiungere il cavaliere Morinelli, che era ritornato in via San Michele ad arrestare Storinelli. Morinelli, Storinelli, scherzò Liboni. C'era da confondersi. Meno male che invece nessun pasticcio ne sia derivato. E Villanterio sorrise, questa volta, per dimostrare che apprezzava l'osservazione del giudice. Raggiunsi Morinelli, dicevo, ma seppi che la signora era andata già via. Fu disposta a una sorveglianza alla stazione e così la stessa signora fu arrestata la mattina seguente mentre stava per partire per Genova. In ufficio confessò per la parte che la riguardava. Spontaneamente? Ha detto invece che lei sapeva tutto. È vero? Quasi. Le diverse cose che sapevo erano frammentarie e riempì le lacune con un piccolo sforzo di immaginazione e di logica. ebbi la fortuna di imbroccarla. Mi duele soltanto d'aver dovuto speculare un po' sullo stato di agitazione in cui era la signora per farla parlare. Beh, in fondo la sua colpa l'aveva anche lei, Larsinelli. Sarà fortunata a cavarsela con poco. Povera donna. Lei sa della sorella, vero? Tutto? Meglio perché il farle un racconto anche di questo mi ripugnerebbe. E allora comprenderà perché mi dolga di averla dovuta un po' tormentare. Alle nove e un quarto, come fu, come sa, fu arrestato Storinelli in istrada. Chiesi al cavaliere Morinelli il permesso di interrogarlo e riuscì a fargli confessare che egli avrebbe voluto approfittare dell'affetto della signorina Bioni verso il padre per indurla a sposarlo e intanto a fuggire con lui. Che briccone! Dieci volte briccone e mi dispiace in un certo senso che non sia neppure complice nell'assassinio. Oh ma perché questo? E di nuovo il giudice sorrideva maliziosamente. Maliziosamente chiusa. Vedrà la concatenazione degli avvenimenti, come le dicevo. Allora tentai il gran colpo e lo accusai dell'assassinio dimostrandogli che era quella l'unica spiegazione di tutta la sua misteriosa e tortuosa condotta. Rimase atterrito, ma posto così fra un'accusa di assassino e un'altra molto minore, si decise a confessare. Nella sera del delitto c'erano nella cassaforte 38.000 lire incassate in quel giorno che gli avrebbe dovuto consegnare a mio padre. Lesto ad approfittare dell'occasione e poiché non aveva ancora compiute le solite scritturazioni sui libri bollati, si decise a rubare il denaro e lo fece quando il cavaliere Morinelli interrogava gli altri consiglieri. Dopo pensò di andarsene altrove, ma avendo posti gli occhi addosso alla signorina Bioni, la perseguitò con le minacce di cui le ho parlato. Forse il suo piano sarebbe riuscito se non lo avessimo arrestato a tempo. Alla povera signorina aveva fatto credere di poter dimostrare che il signor Bioni era stato perlomeno complice nell'assassinio e capirà, sapeva di me, sapeva anche, e non so come, che proseguivo le indagini e si fingeva malato per essere più libero. La sua cameriera sapeva dove trovarlo di solito ed era incaricata di andarlo ad avvertire quando vi fossero novità. Dunque, come le dicevo, egli confessò il furto. Dell'altro delitto persistette a dichiararsi assolutamente innocente e poi ho accertato che era proprio così. Come lo ha accertato? Vengo appunto a questo. Mentre si cercava dappertutto Saliotta, il quale, come sa, mutatosi il vestito in un albergo prima che... Ora Andrea parlava con una certa esitazione, non volendo dire che era stato per trascuratezza di Morinelli o per deficienza di organizzazione che non si erano potuti avvertire a tempo tutti gli alberghi per il caso che si presentasse un tale vestito così e così. Prima che vi giungessimo noi, ebbi un interessante colloquio con Gaddini, il quale mi disse che di questo Saliotta aveva udito parlare due o tre volte da mio padre e che pareva fosse per questi una specie di segretario o di uomo di fiducia a Napoli, a Roma e altrove, cosa che in un certo senso collimava con ciò che aveva detto Larsinelli, e cioè che il marito era segretario di un facoltoso signore. La cosa cominciava a delinearsi. Ritornai all'assalto con Storinelli e riuscì a cavargli di bocca che un tale, i cui connotati erano poi quelli del Saliotta, era andato più volte da lui in ufficio per affari della Sagser ma senza dare un suo vero nome e spacciandosi per l'incaricato di un'ipotetica ditta. Gli era stato anche nel giorno del delitto e dallo stesso Storinelli aveva saputo che a sera sarebbe giunto mio padre. Questo spiega come mai egli potesse trovarsi nell'ufficio a mezzanotte. E in quale modo mi scusi? L'ufficio si chiuse regolarmente alle sette e mezzo e si riaprì alle dieci e mezzo per l'arrivo del consigliere delegato. Evidentemente Saliotta era entrato nell'intervallo, nascondendosi. Ma nascondendosi dove? Ora le dirò. Dunque, pensai che se era stato lo stesso Saliotta ad entrare nella sede centrale la sera in cui mi colpì al viso, bisognava dire che avessi avuto modo di farsi fare delle chiavi false, probabilmente prendendo le impronte con la cera in qualcuna delle sue visite. Un po' di abilità e Saliotta di abilità ne aveva. Beh, un vero ladro allora. Pare infatti che anche una certa competenza in materia non gli si possa negare. Accerteremo bene i suoi precedenti. Io comunque ragionai così. Se Storinelli è innocente e se è stato Saliotta a mettere la pistola nell'orologio e poi a toglierla servendosi appunto delle chiavi false che gli permettevano di entrare di notte nella sede sociale? Deve essere stato anche lui a fare in modo che le lampade si spegnessero e si riaccendessero a mezzanotte. Non si trattava di un dispositivo automatico, poiché all'infuori dell'orologio altri meccanismi non esistevano nel Sagser. Dunque, egli era presente in casa al momento del delitto. Nascosto dove? Era questo il punto. E allora un altro sopralluogo mi convinse che egli avrebbe potuto unicamente nascondersi sulla monumentale cassaforte, la cui cornice, all'antica, è tanto alta da poter celare alla vista un uomo che fosse stato steso sulla parte superiore di... Un momento, mi scusi, ma... e se non fosse stato così? Sarebbe ritornato in ballo Storinelli. Come complice, però, poiché ad andare dall'orologiaio era stato l'uomo con la barba? O anzi, ragione di credere che, appunto, per creare confusione e per fare eventualmente sospettare di Storinelli a proprio vantaggio, Saliotta andasse ad abitare nella stessa casa in cui era il contabile. Ma vedrà ancora, signor giudice. Salì quindi sulla cassaforte, servendomi di una scaletta a mano che il contabile usava per mettere i registri sui piani degli scaffali o per qualche altra cosa del genere. Se Saliotta si era nascosto là, bisognava dire che di là aveva potuto manovrare quel qualsiasi dispositivo che poteva avere immaginato per spegnere e riaccendere la luce. Capirà. Si poteva udire il suono dell'orologio e trovai... che cosa? Come aveva fatto? In un modo semplicissimo, naturalmente. La parete in cui era addossata la cassaforte corrispondeva con quella della sala del consiglio a sinistra dell'uscio. Là, i fili elettrici erano appena appoggiati a isolatori di porcellana. Dietro uno di questi isolatori, Saliotta, il quale aveva avuto tempo di fare le cose con comodo e cioè quando a notte entrava nella casa, aveva praticato un forellino nascosto dall'isolatore stesso e vi aveva fatto passare due fili che comunicavano con uno dei fili nella sala, applicando all'estremità di essi un piccolo interruttore a bottone che rimaneva sulla cassaforte. Con questo interruttore egli poteva accendere e spegnere naturalmente. È così che fece, ai primi e agli ultimi colpi della mezzanotte. Né dietro l'isolatore era possibile... né dietro l'isolatore era possibile vedere il forellino e i fili. Meraviglioso! E lei vide l'interruttore? Certo, ed è ancora là, ma sotto sugello. Meraviglioso! Ripetei il giudice. I miei complimenti proprio, signor Villanterio. Ma era una cosa tanto semplice. Che poi avessi proprio colto nel segno, e non c'era dubbio che fosse diversamente, constatai allorché, arrestato il saliotta a chiasso, come sa, mi fu concesso di interrogarlo. Usai con lui lo stesso mezzo che avevo pressappoco usato con la signora, e gli dissi io per filo e per segno che cosa aveva fatto e come. Fu costretto a confessare quando lo minacciai di confronto con l'orologiaio e con storinelli. E fu così che, senza volerlo, egli venne a rivelarmi quello che per me rimaneva ancora un mistero, l'ultimo, il movente del delitto. Un aggravante, mormorò il giudice. E terribile anche, direi. Furto o appropriazione indebita con relativo falso e abuso di fiducia. Non so perché e come mio padre aveva una certa fiducia in lui, e meno ancora so perché di questo suo segretario egli non avesse mai parlato ai soci all'infuori di quella fugace allusione fatta con Gaddini. Comunque fu possibile al Saliotta, comunque fu possibile al Saliotta in assenza di mio padre, di ritirare gli assegni che storinelli spediva, e accertammo in qual modo facesse. Si appropriò così di una grossa somma, ma era tutt'altro che tranquillo. Quando la moglie gli aveva accennato al suo proponimento di vendetta, egli aveva visto tutto il partito che poteva trarre dalla morte di mio padre, e allora era nata in lui l'idea del delitto dalla quale non lo distolsero le insistenze della moglie. Rubato che ebbe poi, l'assassinio divenne una necessità. Mandò la signora a Lido perché cercasse di ingraziarsi la vittima. Che furfante! E se la signora non fosse stata una donna onesta? Il resto lo sa, signor giudice. Nascosto sulla cassaforte, Saliotta fece agire l'interruttore, e uscì quando non vera più pericolo, saltando per la finestra dell'anticamera. Ma perché rimase poi qui e non fuggì subito? Perché voleva cancellare le tracce del delitto, e perché, dice, ritenendo impossibile che si sospettasse di lui, voleva vedere come sarebbero andate a finire le cose. Ecco dunque dove era andato a finire tutto il denaro che non si trovava. Villanterio non rispose subito. Non voleva dire che un'enorme somma era stata dal padre depositata all'estero, per lo più a mezzo di Gaddini, il quale lo avrebbe aiutato a ritirarla, conosciuto com'era, una volta che egli fosse munito di documenti comprovanti la sua qualità di erede universale. Non voleva accennarvi neppure a quel denaro che sarebbe servito ad asciugare tante lacrime fatte versare dallo spietato spiro Zanasis. Ed ecco tutto, conchiuse poi con un sospiro. Mi immagino che nel suo interrogatorio Saliotta abbia già confessato pressa poco questo. Pressa poco, già, ma forse sarà necessario lo metta a confronto con lei. Dica, signor Villanterio, Morinelli mi ha accennato a quella certa donna che conviveva con Storinelli. Ah, quella di cui le ho parlato. E che in un primo momento credetti essere la dama verde camuffata da bruna e da domestica? No, poveretta, è bruna veramente, la signora Elvira. È innocente, per quanto riguarda noi. E ora, scusi, mi dica perché quel colloquio da lei udito la sconvolse tanto? È una domanda non pertinente all'istruttoria, forse? Forse, ma posso risponderle lo stesso. Del resto ne ho già parlato anche a Morinelli. A quel fortunato Morinelli che ha fatto un figurone, eh? Osservò il giudice con una punta di invidia. Vedrà che sarà promosso commissario. Gliel'avevo promesso, ma anche ha rischiato di fare un fiero capitombolo fidandosi di me. Le dicevo dunque. Un momento, lei ha accennato poco fa all'eventualità che io possa essere posto a confronto con Saliotta? Dovrò rimanere qui? Per qualche giorno almeno. A fretta? Un po'. Devo andarmene per un mesetto in viaggio, perciò desidererei di finirla quanto prima qui. Un mesetto, eh? Vacanze ben guadagnate. No, non si tratta di vacanze, signor giudice. Andrò in viaggio di nozze. Se mi permette, le do l'annuncio ufficiale del mio fidanzamento con la signorina Luisa Bioni, che sposerò appena potrò ritornare a Roma. Ed eccole, eccole spiegato l'ultimo mistero. Manciagredo finisce così. Fine! È finito! Che fine frettolosa! Vero che io ci ho messo mesi a leggere questo libro, ma che fine frettolosa! Va bene, allora facciamo così, che come al solito ricordo che l'editing di questo testo è veramente il minimo sindacale perché possa essere caricato su YouTube e ascoltato più o meno da tutte le piattaforme. Che è una lettura a prima vista, quindi le intenzioni non sono corrette, ci sono errori di edizione, ci sono un sacco di quei bellissimi mouth sound che usciranno per forza perché farò veramente un editing con tre plug-in, non di più. E che se vuoi seguirmi mi trovi principalmente sul canale YouTube dove faccio le letture a voce alta, all'impronta, anche se mi stai ascoltando da Spotify. Non so quanto rimarrò sui canali podcast con questo tipo di contenuti, ma su YouTube mi trovi sempre e per forza. Che se hai bisogno di me o mi vuoi conoscere meglio mi trovi sulla mia newsletter di Substack che si chiama Narratrice Nomade, esattamente come il mio podcast dove parlo di voce e narrazione audio. Che queste letture per l'appunto sono letture all'impronta, l'ho già detto tre volte, sono abbastanza stanca, penso che si senta. Di conseguenza noi ci risentiamo alla prossima storia che a questo punto adesso potrò decidere quale sarà, perché basta gialli, ne abbiamo letti abbastanza per adesso. Cercherò un'avventura per ragazzi. Se hai consigli, se hai suggerimenti da darmi, se vuoi mandarmi un pdf purché di pubblico dominio, quindi il libro dei diritti da leggere su questi canali, mi puoi scrivere alla musifavolista.com. Per tutto il resto mi trovi su lamusifavolista.com o su mettiamoci la voce.it. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!